Il turismo deve riguardare tutti i dipartimenti della regione, tutte le aree amministrative della regione perché per sviluppare il turismo bisogna sì investire sulla ricettività ma bisogna inserire le iniziative di promozione in un quadro strategico bisogna intervenire sulla mobilità per dare la possibilità ai turisti di spostarsi bisogna intervenire sugli itinerari enogastronomici costruendo l'insieme magari agli itinerari del turismo religioso, quindi un approccio sistemico per evitare di lapidare risorse in mille modi ma senza un approccio strategico. Io credo che negli ultimi 50 anni nessun governo regionale è riuscito ad ottenere quello che ha ottenuto il mio governo regionale dal governo, 3 miliardi e mezzo per la 106 quando negli ultimi 50 anni era stato investito solo un miliardo. bastano, no, non bastano perché bisogna completare tutti i tratti, ci vogliono altri 10-15 miliardi io sono impegnato ad ottenere per la Calabria tutte le risorse possibili per lo sviluppo infrastrutturale le altre regioni si lamentano del fatto che nel contratto di programma di ANAS la Calabria sia stata finanziata molto più delle altre regioni più della metà delle risorse investite nelle infrastrutture in Italia sono state investite in Calabria quindi c'è tanto da fare ma credo che tanto è stato fatto rispetto al passato. Io sono contento perché arriveranno milioni di turisti grazie a questi violi sono preoccupato perché immagino questi turisti quando arrivano negli aeroporti alle prese con le difficoltà derivanti dal doversi spostare non vi sfuggirà che ben due leggi regionali che tentavano di risolvere questo problema sono state impugnate dal governo nazionale perché ancora sono troppo forti le corporazioni dei tassisti io però non mi perdo d'animo su una di queste leggi abbiamo proposto ricorso in corte costituzionale e spero che la corte costituzionale ci darà ragione. Presidente, in questo momento ragionare lontano dalle stagioni turistiche su come organizzare un turismo rispetto al quale la poderosa azione di promozione che sta conducendo il governo regionale, il Presidente Occhiuto in particolare attraverso anche un'azione condotta sui trasferimenti, sui voli che sono stati fortemente incrementati possa poi trovare sul territorio una adeguata ricettività e un'organizzazione che consenta alla nostra regione di essere capace di dare le risposte che tutti ci aspettiamo. Io penso che sia necessario brandizzare l'immagine della nostra regione molto più di quanto non sia stato finora e tutto ciò renderebbe più accessibili anche attraverso una maggiore appetibilità aree che oggi non sono raggiungibili, ma in ogni caso l'intervento sull'infrastruttura è un intervento importante e credo che il governo regionale stia facendo molto in questo senso. Grazie.